Buongiorno, l'attività che vi propongo questa mattina si basa su una semplice melodia costituita su una pentatonica che noi possiamo seguire anche con un... qui ho preso un tovagliolino di casa Seguire questa melodia in questo modo Onda, onda piccola Onda, onda vieni qua Onda, onda piccola Onda, onda vieni qua Poi il mare, questo mare calmo diventerà più agitato e dovrete voi trovare un modo di seguirlo Vi ringrazio e spero che questo video sia utile a passare un po' di dub insieme Eccolo Onda, onda piccola Onda, onda piccola Onda, onda vieni qua Onda, onda piccola 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 Grazie a tutti